Amici bentornati sul canale 9.000 giri elaborazione autosportive. Oggi vogliamo fare un chiarimento, un punto della situazione perché tante volte ci viene richiesto o tramite mail o tramite telefono o tramite appunto clienti che vengono a noi direttamente in sede, vogliamo fare un ulteriore chiarimento su quello che si può fare come montaggio di cerchi alternativi magari non presenti sul libretto della vettura perché è un aspetto che per alcuni è chiaro, dato che è stata fatta una normativa sei anni fa, che appunto ha modificato completamente lo status quo precedente, cioè precedentemente a cinque anni fa per poter montare un cerchio non riportato sul libretto, la procedura è quella di avere il nulla osta dalla casa costruttrice, cosa che forse la BMW è l'unica che dava retta ai propri clienti, qualunque altra richiesta, io so di tantissimi clienti che hanno scritto alla Mercedes piuttosto che alla Fiat, non è mai arrivato nulla osta perché poi non avevano la cultura, il tempo e la voglia di avere un rapporto con questi clienti, per cui senza nulla osta non era possibile fare assolutamente nulla. Io mi ricordo che ai tempi avevo una BMW, sono stato fortunato, ho mandato una richiesta alla loro ufficio clienti BMW, mandando appunto i dati della macchina, mi è arrivato il nulla osta per una misura di cerchi superiore che non avevo al libretto, con questo nulla osta sono andato in ufficio della motorizzazione, ho pagato una piccola cifra per la pratica e questa misura di cerchi mi è stata riportata sul libretto, dopodiché ho potuto montare i cerchi e le gomme alternative e per qualunque tipo di ho eliminato qualunque tipo di rischio. Adesso invece, da cinque anni a questa parte, è cambiata un po' la normativa, cioè non si richiede più nulla osta alla casa, ma nelle case costruttrici di cerchi forniscono loro il cerchio specifico e omologato, perché omologano quel determinato cerchio, cioè quel modello di cerchio per quella determinata macchina. Quindi, prendiamo un caso uno per l'altro, questo ho aperto, stiamo parlando dello Z, questa è una Giulietta 1.4 turbo benzina e questi sono tutti cerchi che io posso montare, per cui ho tutti i vari modelli con le relative misure. Andiamo dai 17 pollici, 18, 19, quindi arriviamo fino a 19 pollici, se non andiamo oltre, quindi dai 17 ai 19 pollici. Questo significa che per tutte quelle vetture che magari hanno come omologazione a libretto fino a 17, possono tranquillamente montare un 18 pollici o addirittura un 19 pollici, tipo questo, il classico disegno alfa. Poi adesso vi spiego la procedura per poter poi mettersi in regola con il codice della strada e, a questo punto, non avere problemi nel caso in cui uno venisse fermato. Quindi, in sostanza, la procedura è questa. La casa produttrice, come dicevo, lo Z, prendiamo questo cerchio in particolare, che è l'MSV 82, viene proposto in misure da 18, 19, quindi vuol dire che la casa ha preso quel modello di cerchio, l'ha costruito e testato sui pesi dell'asse anteriore e dell'asse posteriore per quella specifica macchina. Poi uno mi dice, come mai questo cerchio qua, non so, prendiamo l'MSV 85, c'è da 18, ma io lo volevo da 19. Da 19, se non è riportato, vuol dire che la casa ha testato quel cerchio e il limite, a livello strutturale, era arrivare fino al 18 pollici. Probabilmente il 19, essendo un cerchio con delle razze più larghe, non gli consentiva l'omologazione, perché il concetto è avere un cerchio che deve resistere alle sollecitazioni e non deve creare problematiche di spaccature, ammaccature o cose del genere. Questo è anche uno dei, questo tipo di modifica che è stata fatta a livello legislativo, io la trovo estremamente giusta, perché ha pulito il mercato, non so se i più anziani forse si ricordano, che anni fa c'erano tutti quei cerchi alternativi ai cerchi, diciamo, al disegno del cerchio di serie, erano i cerchi che venivano costruiti in paesi in Cina piuttosto che in paesi del sud-est asiatico, costavano pochissimo, erano veramente pericolosi, perché soprattutto su misure, diciamo, da una certa pezzatura in avanti abbiamo visto un sacco di questi cerchi proprio creparsi all'interno, perché ovviamente chi produceva questi cerchi utilizzava un criterio di economia estrema, quindi al posto che mettere dentro un determinato quantitativo di magnesio, che è quello che serve per creare la rigidità strutturale del cerchio, ne metteva un quinto e il cerchio alla prima buca, al primo tombino, si crepava, quindi, e questi erano prodotti veramente pericolosi e con questo sistema, questi cerchi alternativi, nessuno di questi produttori ha più potuto omologare in Italia e quindi sono spariti praticamente dal mercato. Questo tipo di procedura di omologazione si chiama NAD, N-A-D, la procedura in sostanza è molto semplice, il cliente viene da noi con i dati della macchina, noi inseriamo i dati della macchina o la targa della macchina o il telaio, quello che vogliamo, la targa, viene evidenziata una scheda specifica, in questo caso, come ho detto prima, abbiamo preso una Giulietta e qua emergono tutti i cerchi disponibili con le varie misure specifiche per questa macchina. Il cliente sceglie la misura, se ce l'ha già a libretto non c'è problema perché è riportata anche la misura della gomma, nel momento in cui non fosse riportata a libretto noi forniamo quel determinato tipo di cerchio, la casa costruttrice mi darà anche la misura della gomma perché l'omologazione ovviamente deve riguardare non solo il cerchio ma anche ovviamente la misura della gomma alternativa perché ovviamente se uno ha un 17 e va a montare un 18, le tre misure che compongono la gomma, cioè l'impronta terra, la spalla e il diametro, al variare di una ovviamente cambiano automaticamente anche le altre. Quindi la casa costruttrice nel momento in cui il cerchio prevede una gomma che non è riportata sul libretto, mi deve fornire anche la misura esatta della gomma perché io poi devo andare a ordinare la gomma e creare un assemblaggio per poterlo montare correttamente sul cliente. Dopodiché al cliente verrà dato il certificato di omologazione del cerchio che ovviamente è marchiato OZ, quindi è l'OZ che certifica che quel cerchio con quella specifica tecnica è stato omologato per quel determinato tipo di macchina e non per altre. Noi dobbiamo compilare un foglio di corretto montaggio, una banalità che dice tutto o niente, comunque fa parte del fatto che montiamo il cerchio senza sbagliare, per dire una gommatura differenziata, non è capitato tanti anni fa, c'è arrivato qua un cliente con una BMW dove chi gli ha montato le gomme aveva una gommatura differenziata, gli ha montato le gomme posteriori, anteriormente e viceversa, quelle sono delle robe che veramente non hanno senso ed esiste. Quindi comunque noi dobbiamo dare al cliente su carta intestata questo certificato dove ci assumiamo noi la responsabilità del corretto montaggio di questo sistema, dopodiché il cliente prende entrambi i documenti, li porta in agenzia di pratiche auto e ovviamente consegna il libretto e in un tempo X viene riportato sul libretto la nuova misura, in maniera tale che se uno dovesse essere fermato, soprattutto al di là dell'essere fermato, che quello è già un rischio, il rischio grosso è quello, se dovesse succedere un incidente e uno non ha tutto in regola, non ha la misura della gomma del cerchio che è preso sul libretto, l'assicurazione si può rivalere sul proprietario della macchina. Quindi il rischio grosso, è anche la multa d'accordo, ma soprattutto il rischio che uno corre da un punto di vista assicurativo. Io spero di essere stato sufficientemente chiaro, se avete qualche cosa, mi sono dimenticato qualcosa, se qualunque dubbio mi chiamate in sede e mi fate tutte le domande che volete, 027383175, io sono qua dal lunedì al venerdì. Consiglio sempre quello di guardare intanto sul sito www.nominagiri.it, soprattutto nella parte dei servizi che noi offriamo, che non sono solo relativi al motore, ma c'è di tutto, dalla set, impianto frenante, setica esterna, setica interna, abbigliamento race, c'è di tutto. Andare a consultare l'archivio elaborazione dove troverete più di 3600 schede vettura suddivise per marca e per modello e nessuno in Italia penso che abbia una banca dati così esplicita e così esaustiva. Vi chiediamo di cliccare sulla campanella e soprattutto iscrivetevi al canale così ci aiutate a migliorare sempre di più, a crescere e rimanete sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Un saluto, alla prossima!